Solo un'offerta è pervenuta agli uffici comunali per la gestione e lo svolgimento della Fiera dell'Assunta edizione 2020. Si entra nel vivo delle procedure selettive, tant'è che con determina dirigenziale numero 12 di ieri 28 luglio si è proceduto alla nomina della commissione giurigatrice che sarà preseduta dal segretario generale Nunzia Buccilli e composta da comandante della polizia locale Leonardo Mercurio e dal dipendente Angelo D'Agostino. L'offerta dovrà essere vagliata per la verifica dei requisiti previsti nell'avviso pubblico. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto lo scorso 24 luglio. Si spera quindi che l'unica domanda pervenuta sia conforme alla vigente normativa a quanto richiesto nel bando. La Fiera dell'Assunta al tempo del Covid vedrà la valorizzazione soprattutto della zona sud di Corsovidio. Partirà infatti obbligatoriamente da Porta Napoli la dislocazione delle bancarelle che seguirà scrupolosamente regolamento la planimetria comunale. Unica deroga sarà l'eliminazione dei posteggi di dove sono stati concessi gli spazi pubblici agli esercenti. Verranno attribuiti maggiori punteggi a chi prediligerà i prodotti tipici agroalimentari, l'artigianato locale e il made in Italy, così come a coloro che utilizzeranno attrezzature espositive tesi a conferire un'immagine complessiva della fiera più consona alle caratteristiche del centro storico.